Un dialogo in spagnolo scandito dalla spontaneità e della schiettezza è stato quello che il Papa ha avuto in Aula Palo VI con la comunità Shalom, fondata 35 anni fa a Fortaleza in Brasile, grazie a Moises de Azevedo che insieme ad alcuni giovani aprì una pizzeria per parlare a chi era distante da Dio e dalla Chiesa. Un cammino di evangelizzazione dei lontani, oggi diffuso in varie parti del mondo. Quattro le domande rivolte a Francesco, riferendosi alla misericordia in un mondo segnato dall'indifferenza e dalla disperazione, il Pontefice ha evidenziato che non ci sono parole giuste per descriverla, va testimoniata e vissuta nella carne. Testimoniare, aggiunto, significa non restare chiusi in se stessi, nei propri interessi, ma condividere insieme ai fratelli e farlo nella gioia, non nella tristezza. È giovane il Papa ha chiesto di scappare dall'autoreferenzialità, di non interessarsi troppo al proprio aspetto, se vi ossessionano gli specchi, ha detto, allora rompeteli. L'invito è stato quello di essere comunità, di dare quanto gratuitamente hanno ricevuto, perché questo ti fa crescere e ti purifica l'anima. Infine l'appello a dialogare con gli anziani, con i nonni soprattutto, condividendo con loro il tempo e la ricchezza del loro vissuto, guardando a Gesù, che è padre che accoglie, aspetta soprattutto nei momenti difficili, anche quando si è nel peccato. Grazie. Grazie.